Ecco il colpo a sorpresa che Cosentino è uscito dal cilindro. Dal Basilea arriva Gaston Sauro, difensore argentino di 24 anni, che in Svizzera ha sempre giocato da titolare. È un colpo importante per la Serie B, un colpo fatto anche in prospettiva futura, se è vero che Sauro arriva a Catania in prestito con diritto di riscatto. Sarà l'argentino dunque il sostituto di Peppe Bellucci. E che sostituto? Il Catania lo aveva già adocchiato nel 2012, anche perché Sauro è comunitario in virtù del doppio passaporto argentino-italiano. Poi il passaggio dal Boca Juniors al Basilea, in cui ha giocato 64 partite, con ben 19 presenze nelle Coppe Europee. Proprio come Bellucci, Sauro è un difensore centrale roccioso, che in caso di necessità può giocare anche come terzino destro. Un colpo a sorpresa, una trattativa portata avanti da Cosentino a fari spenti. Sauro dovrebbe arrivare a Catania già domenica. Visite mediche, firma del contratto e chissà possibile esordio già alla prima partita di campionato contro il Lanciano. Certamente non è una coincidenza che la notizia dell'arrivo di Sauro sia arrivata proprio quando il Catania ha ufficializzato il passaggio di Bellucci a Lizza. L'argentino è il primo dei tre rinforzi programmati da Cosentino prima della fine del mercato. Ne mancano due, che verosimilmente saranno un portiere, gilet e un attaccante. Il Lizza ha sempre Pavoletti, anche se dietro l'angolo potrebbe esserci un altro colpo a sorpresa, come quello di oggi, che rinforza notevolmente una rosa già di per sé decisamente competitiva.